E quanto vive l'uomo infine? Vive mille giorni o uno solo? Una settimana o secoli? Per quanto tempo muore l'uomo? Cosa vuol dire per sempre? Preoccupato da questo tema, mi dedicai a chiarire le cose. Cercai i saggi sacerdoti, li attesi dopo il rito, li spiai quando uscivano a visitare Dio e il diavolo. Si annoiarono con le mie domande, neppure essi sapevano molto, erano solo amministratori. I medici mi ricevettero tra una consulta e l'altra, con un bisturi in ogni mano, saturi di auromicina, sempre preoccupati. Ogni giorno, da quanto appresi per ciò che dicevano, il problema era il seguente. Mai erano morti tanti microbi, tonnellate di essi cadevano, ma i pochi che rimanevano si rivelavano perversi. Mi lasciarono così spaventato che cercai gli affossatori. Andai ai fiumi, dove bruciano grandi cadaveri dipinti, piccoli morti ossuti, imperatori ricoperti di squame terrificanti, donne schiacciate d'improvviso da una raffica di collera. Erano rive di defunti e specialistici nerei. Quando arrivò la mia occasione, rivolsi loro qualche domanda. Essi mi offrirono di bruciarmi. Era tutto ciò che sapevano. Nel mio paese, gli affossatori mi risposero, tra bicchieri, cerca di una ragazza robusta e lascia stare queste sciocchezze. Mai vidi persone più allegre. Cantavano levando in alto il vino, alla salute e alla morte. Erano grandi fornicatori. Tornai a casa più vecchio, dopo aver percorso il mondo. Non chiedo nulla a nessuno, ma so ogni giorno di meno.